Prima di raggiungere la Tauron Arena di Cracovia, dove lo aspettavano i 20.000 volontari della Giornata Mondiale della Gioventù per l'ultima tappa del suo viaggio in Polonia, Papa Francesco si è affacciato ancora una volta dalla finestra dell'Arcivescovado di Via Franziskanska per salutare i numerosi giovani di vari paesi e fedeli polacchi che erano in attesa, nonostante la pioggia battente. In spagnolo ha ringraziato per la compagnia e per la calorosa accoglienza di questi giorni, che ha sfidato anche il mantempo e poi ha impartito la sua benedizione. Sulla strada per l'aeroporto il Papa si è poi fermato nel Grande Palazzo dello Sport di Cracovia, accolto dall'entusiasmo dei volontari impegnati nell'assistenza dei pellegrini e mass media, nell'organizzazione e nella logistica. Nel suo intervento il Pontefice li ha ringraziati per l'impegno, la generosità e la dedizione del servizio e per la loro testimonianza di fede. Poi ha lasciato il discorso preparato, cinque pagine, troppo lungo, ha detto, ed ha parlato brevemente a braccio in spagnolo. Ha ringraziato tutti i organizzatori volontari per aver portato avanti questa avventura con tanto lavoro e tanta preghiera. E si è detto convinto che i giovani volontari sono la speranza del futuro, come li aveva chiamati nel suo saluto il Vescovo coordinatore della GMG Muscus, ma ha due condizioni. La prima è avere memoria, memoria del mio popolo, della mia famiglia, di quanto ho ricevuto dagli adulti. Per questo serve parlare con i genitori, soprattutto con i nonni, perché sono loro la saggezza del popolo. La seconda, ha spiegato Papa Francesco, è avere coraggio nel presente, non spaventarsi, come il giovane volontario che è stato sconfitto dal cancro. Ha avuto il coraggio di lottare, anche nella peggiore condizione. Oggi non è qui, ma ha seminato speranza per il futuro. Infine, un pensiero alla prossima GMG. Io non so se ci sarò a Panama, ma vi posso assicurare una cosa, che Pietro ci sarà a Panama. E Pietro vi chiederà se avete parlato con i nonni, se avete parlato con gli anziani per avere memoria, se avete avuto coraggio e audacia per affrontare la situazione e se avete seminato per il futuro.